c'era una volta una volpe che da diversi giorni vagava nel bosco alla ricerca di qualcosa da mangiare i crampi della fame erano divenuti insopportabili quando aveva ormai perso la speranza di trovare del cibo vide su una vite alcuni grappoli d'uva davvero lucenti ed invitanti ma sospesi molto in alto la volpe cercò in tutti i modi di impadronirsene ma non ci riuscì dopo innumerevoli tentativi stremata dalla stanchezza e dalla pancia vuota disse fra sé quei grappoli d'uva saranno sì belli e splendenti ma sicuramente acerbi e si allontano come la volpe così anche alcuni uomini non potendo raggiungere i propri scopi per inettitudine accusano le circostanze come dicevano gli antichi latini nondum matura est nolo acerbam sumere grazie 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 grazie